L'arte, siamo chiamati ad essere artisti nella nostra vita. Artisti che vuol dire, non è che c'è una regola, fai questo, sei un'artista. L'artista viene fuori da un insieme di elementi che collaborano in contemporanea per creare un prodotto diverso da quello che è il prodotto abituale. Noi siamo chiamati a mettere insieme l'intelligenza, il sentimento, la psiche e la nostra capacità di volontà, la nostra volontà per realizzare quello che ci mantiene in salute. Queste riunioni hanno in qualche misura una certa prevalenza sull'aspetto cuore ma il cuore partecipa come tutti gli altri organi come cervello, rene, fegato. Tutti i nostri organi insieme devono in qualche misura costruire l'oggetto artistico che però deve essere regolato e deve essere guidato, diciamo, in linea di massima dal nostro cervello. Questa è l'arte che noi dobbiamo mettere insieme, di vivere in salute. Questa è un sogno oppure può essere anche una realtà. Se noi vediamo alcuni aspetti della nostra vita possiamo dire, beh, insomma, più sogno che realtà. Però le cose non stanno proprio così perché dipende molto da noi che un sogno diventi una realtà. L'idea che possa essere un sogno è data da questo dato, vedete, appunto, report del settembre 2016 49% sono le morti per la patologia cardiovascolare, quindi non solo cuore ma vascolare perché prevalentemente anche il cuore vive della patologia vascolare. Quindi diciamo che parliamo del cuore, ma il cuore come organo che è mantenuto in vita e funziona bene se le sue arterie sono mantenute sane. Come il nostro organismo funziona bene se le arterie del cervello sono mantenute sane, se le arterie del reno sono mantenute sane, se tutto il sistema vascolare è mantenuto sano. 49% uno sì, uno no di noi oggi muore per questo tipo di patologia. A questo si aggiungono un altro 30-40% di morti correlate alla malattia vascolare. Non si tratta solo del cuore, si tratta di tutto il nostro corpo proprio. Sapete quanti chilometri di arterie abbiamo noi? 100.000 chilometri di vasi sono i piccoli tubicini che partendo dalla orta, la orta è un tubo che ha questa dimensione circa, 3-4 centimetri di diametro, e qui si vede qualcosa, questo tubo rosso che viene fuori dal cuore, quella è la orta. Diciamo, all'inizio sono intorno ai 3-4 centimetri di diametro, a cui dopo questo tubo così si dirama in tanti rami, sempre più piccoli, sempre più piccoli, sempre più piccoli. Quelli che arrivano al cervello, per esempio i papillari, le metà anteriore del cervello, hanno il calibro di un millesimo di millimetro, sono vasi veramente molto piccoli. Però hanno anche loro una lunghezza, ecco, 100.000 chilometri di vasi. Noi viviamo sani e staremo bene se riusciamo a mantenere sani questi tubicini, che interessano anche il cuore, interessano il cervello, interessano i reni, interessano tutti gli ormai. Pensate, non c'è un briciolo del nostro corpo, la pelle, un briciolo del nostro corpo, dove non arrivano questi capillari che portano il sangue. E bisogna mantenere sani quelli. Quindi ci sono, diciamo, l'ipotesi, il 50% si muore per malattie cardiovascolari, più le patologie di altri organi che sono correlate al sistema vascolare. Perché tutti gli organi vivono bene, vivono sani, se sono ben nutriti. Cioè se a un certo punto le arterie si mantengono aperte. Questo è l'aspetto, diciamo, negativo, che ci fa pensare che vivere sano possa essere un sogno. Però ci sono già altre sperimentazioni molto evidenti, molto efficaci, che ci dicono che possiamo ridurre le patologie cardiovascolari fino al 90%. Pensate a togliere il 90% degli infarti nella nostra società. Pensate a togliere il 90% dell'ictus. Pensate a togliere tutte le patologie vascolari a livello renale, a livello tegato, a livello periferico, gamberte, tutto. Meno il 90%. Ma questo non è un sogno, questo è una verità già sperimentata. Se noi vogliamo, ognuno di noi, se vuole, riduce fino al 90% tutte le patologie delle arterie. Cioè mantiene sane le sue arterie per tutta la vita fino al 90%. Dopo c'è un 10% che resta un po' fuori perché qui sono delle patologie in parte con gente, sulle quali oggi si agisce poco. Però non è tutto vero neanche questo. Quando nasce un figlio che ha delle malformazioni, che ha dei problemi, andiamo a vedere. Il papà, la mamma, erano fumatori? Avevano il colesterolo alto, lo avevano basso? Avevano dei parametri vitali tutti in ordine o non ne avevano in ordine? Per cui il figlio che nasce, meno mato tante volte, ha un'origine già durante la gestazione della mamma. C'è già una patologia perché il papà non vive una vita sana, perché la mamma non vive una vita sana. Uno che beve un po' troppo, per esempio, uno che fuma. È chiaro che non potrà, in linea di massimo, fare gli figli sani. Non c'è niente da fare. Resta questa la regola della biologia. I nostri organi, se ben nutriti, sanno difendersi. Cioè, se noi manteniamo sane le nostre arterie, i nostri organi hanno la capacità, diciamo, di difendersi da ogni aggressione. Che possono essere i micoli, possono essere altre condizioni ambientali particolari, possono essere anche qualcosa del nostro vivere che non è perfettamente sano. Grazie. Grazie. Grazie.